Che cos'è il codice sorgente? Il codice sorgente non è altro che un testo, è un testo molto potente che viene costruito usando un linguaggio di programmazione. I linguaggi di programmazione oggi sono ormai più di 8.000, mentre le lingue conosciute sono soltanto 7.000. Quindi abbiamo più linguaggi di programmazione che lingue effettivamente parlate. Quindi questo è un tema su cui merita fare una riflessione.